Programmata è nel 28 e 29 maggio l'anticipazione primaverile di Travel Expo, borsa globale dei turismi, la cui 24esima edizione si svolgerà dal 23 al 25 settembre 2022 a Terrasini. Un'anticipazione per l'unica borsa del turismo in Sicilia dedicata esclusivamente agli operatori del settore, che costituisce una delle prime novità di questa era post-pandemica. Doppio appuntamento per un unico evento con l'obiettivo di sostenere le imprese della filiera turistica in due diversi momenti dell'anno, puntando su nuove formule commerciali, modulari e flessibili, favorendo l'incontro tra domande e offerta, la commercializzazione del prodotto al trade e informando il viaggiatore attraverso azioni mirate rivolte al consumer. Abbiamo riscoperto Enna come una destinazione dalle grandi potenzialità e quindi riteniamo che queste potenzialità siano tutte quante da sviluppare, specialmente in questo periodo post-pandemico. Quindi l'abbiamo anche immaginata come destinazione al centro della Sicilia, per cui per favorire l'arrivo di tutti quanti. Come sempre la preview si caratterizza per essere un po' la festa di primavera. Insomma, l'abbiamo quindi nessun problema, nessuna organizzazione di concertazione, bensì un momento proprio di riscoprire il territorio, di festeggiare la ripresa di questa attività che grazie a Dio sta andando sufficientemente bene per le imprese e per ricordare il prodotto turistico per quello che riguarda l'aspetto estivo. Travel Expo, che invece si svolgerà dal 23 al 25 settembre, a conclusione dell'estate, nella tradizionale sede del CDS Hotel di Città del Mare a di Terrasini, sarà il punto di arrivo e di partenza per un'azione di rilancio complessivo delle imprese turistiche che operano sia nell'outgoing che nell'incoming, anche in vista della stagione invernale in un'ottica di allungamento della stagionalità. Manco laboratorio per le nuove dinamiche di mercato e agora per gli addetti ai lavori, una formula vincente che si contraddistingue da tutti gli altri appuntamenti di settore. Non è un caso che in questa edizione punteremo e integreremo l'offerta tradizionale dell'outgoing, cioè di chi vuole andare fuori dalla Sicilia, con un workshop dedicato all'incoming. Quindi lo spirito di recuperare flussi turistici attraverso i buyer internazionali, secondo i mercati di riferimento, che ovviamente andremo a determinare a giugno-luglio, proprio per capire quali sono i mercati emergenti che possiamo recuperare per la prossima stagione.